bella ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove vedremo, dove state vedendo insieme a me il gameplay trailer di NBA 2K21 gioco che uscirà il 4 settembre ma per PS4, si ragazzi avete capito bene questa qui ovviamente come potete vedere è praticamente una sorta di upgrade del gioco che già stiamo giocando quindi non aspettatevi grandi miglioramenti, grandi mostruosità, si sta diciamo cercando di migliorare ovviamente quello che è stato fatto di buonissimo la scorsa stagione perché diciamoci la verità il gioco è stato molto divertente, ovviamente ci sono i soliti problemi, si potrebbero migliorare tantissime altre cose ma sono tutte cose tecniche come la gara del tiro da tre, la gara delle schiacciate, c'è ancora un po' di problema con la fisica i cambiamenti ci sono stati e il gioco di quest'anno secondo me è risultato abbastanza piacevole tralasciando i soliti problemi, ok? Guardando il trailer sembrerebbe esserci qualche miglioramento, a parte come avete visto nel primo tiro di Damien se andate a rivedere, o comunque rivedremo, si vede che è cambiata anche la barra del tiro, cambieranno alcune cose sembra ci sia una zona, vedremo, vedremo, una zona evidenziata da dover puntare, vedremo un attimino ma poi ragazzi altra cosa interessante è appunto vedere la fisicità una schiacciata che può portarci alla caduta per la troppa vemenza, per la troppa forza, per lo sbilanciamento fisico che ne so, una posterizzazione di Brianna, voi sapete che io storpo i nomi di tutti, quindi non vi preoccupate di Yannis, però io lo chiamo Giannino, Brianna, Briannis Gianni una posterizzata da parte sua dove si vede bene il contatto fisico è qualcosa di davvero interessante secondo me sotto questo aspetto però ragazzi stiamo comunque parlando di una versione PS4 quindi praticamente non credo che ci saranno grosse rivoluzioni soprattutto a livello grafico perché ormai credo che abbiamo raggiunto il limite con NBA 2K20 penso che già graficamente il 20 sia molto bello ci sono da migliorare molte cose tecniche ma credo che queste purtroppo siano cose che vedremo più avanti io credo che appunto in questo gameplay trailer abbiano voluto far vedere qualcosa strano che abbiano voluto far vedere la barra del tiro che abbiamo appena analizzato con Damien effettivamente lì c'è qualcosa di vuol dire che vogliono farci vedere che ci saranno novità anche nella versione PS4 e non che verrà completamente snobbata anche perché ci sarà il My Team, ci sarà il My Career e vedremo qualcosa nei prossimi gameplay trailer però credo che la maggior parte del lavoro il maggior carico di lavoro verrà fatto poi sulla PS5 io tanto vi ringrazio ragazzi per aver visto questo video fatemi sapere voi cosa ne pensate se anche voi come me pensate che non ci saranno grossi stravolgimenti ma sarà piuttosto una versione PS tipo col DLC ci saranno ovviamente gli aggiornamenti ricordiamoci che c'è stato anche una stagione particolare ragazzi lo sappiamo bene non è stato facile giocare in queste condizioni e far ripartire il campionato in queste condizioni e quindi anche la 2K non ha avuto la possibilità di lavorare su una nuova stagione con i giocatori con i palazzetti non ci sono state le possibilità di lavorare con tranquillità e questa è una cosa che potrebbe essere fondamentale però credo che tutte le forze verranno impegnate per la maggiore sulla versione PS5 quindi la versione PS4 sarà sicuramente migliorata ma credo mio parere personale poi ovviamente mi fate sapere la vostra qui sotto credo che la maggior parte delle forze vengono impegnate sull'altra versione tutto qui io vi saluto ovviamente vi aspetto nei commenti con le vostre opinioni un abbraccio un bacione bella finale nella 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 la la outlet coban studio Grazie a tutti.